Attenzione, ecco qui stiamo visitando la chiesa di San Salvatore, il vero Bartolomeo ce la presenti? Sempre una delle maggiori chiese perché Santissimo Salvatore è venerato quanto il patrono San Bartolomeo. I mianesi erano molto devoti al Santissimo Salvatore, infatti la festa si fa ai primi di settembre, 7, 8, 9, ed è sempre una bellissima festa. Si celebra qui qualche volta durante la settimana? Sì, si celebra qui spesso. Adesso perché la chiesa sta fanno il sorarco di vita, poco, è stato riparto il tetro, è stato riparto l'interno, è stato riparto il pavimento, è stato scoperto questa pietra qui che prima non c'era. Ecco, sì. Perfetto. Ecco qua, molto bella. Perfetto. Perfetto. Perfetto.